Ciao e benvenuti ad un'altra puntata del nostro canale dedicato alla maschalcia. Oggi voglio presentarti dei ferri in gomma, ferri carré modello step. Eccoli qua, te li faccio vedere, questi servono per assorbire le vibrazioni del cavallo. È un ferro che ha una caratteristica particolare, è in gomma e all'interno ha una lamina metallica e questo ti dà la possibilità di poter aggiustare un po' la sagoma del ferro anche con il martello. Quindi lo possiamo un pochettino allargare e lo possiamo chiudere. Abbiamo la possibilità di avere il ferro anteriore e il ferro posteriore. Una caratteristica importante del ferro carré è la stampatura, quindi abbiamo la possibilità di scegliere praticamente la posizione del chiodo. Quindi hanno messo una stampatura abbastanza fitta. Questo non vuol dire che dobbiamo mettere tutti i chiodi, per l'amor del cielo. Il maniscalco però può scegliere appunto dove posizionare il chiodo. E in più abbiamo la possibilità di mettere il chiodo o a magro o a grasso, proprio grazie a quest'asola. Poi la caratteristica del ferro è far sì proprio che il chiodo si blocchi perfettamente nella posizione dove vogliamo. Con questo è tutto e vi aspettiamo alla prossima puntata. Grazie, ciao!